Vestiti da poliziotti al Palazzo della Giustizia. Ma che sei matto? Giù! A terra! Dai papà ti prego, devi aiutarmi. È l'ultima volta che te il chiedo. Sto crependo. Ammazziamo per la droga. Migliacchi maledetti bastardi, così lo ammazzate! Cartagena, Hong Kong, Amsterdam, Roma e da qui immediatamente negli Stati Uniti. Se spezziamo il circuito, anche l'Italia sarà fuori dal giro. Ma non dimentichi, abbiamo a che fare con gente organizzata, gente capace di qualsiasi marchigegno pur di metterci nel sacco. Migliacchi maledetti, anche l'Italia sarà fuori dal giro. Per chi lavori e a chi portavi quella droga? A nessuno. Era per me. Tre chili? Ma come questo è quello dei tre chili da roba? Sì, è proprio lui sto farlo coni. Allora ce ne potrebbe avere ancora dell'altra, non vi pare? Di a quelli dell'organizzazione che d'ora in poi sono io il capo. È chiaro? È chiaro? Ehi, per uno che fa camminare gli altri tu corri un po' troppo. Mi faccia vedere per sacco, per favore. Mi hanno mandato qui a combinare un affare, non per diventare un bersaglio. Ehi, per uno che fa camminare gli altri tuoi. Ehi, per uno che fa camminare gli altri tuoi. Ehi, per uno che fa camminare gli altri tuoi.